Cerco di rispondere all'incituzione, coerenza, perché mi piace la citazione iniziale, nel programma c'è il quoziente Parma, nel programmatico c'è il quoziente Parma e quindi come mai il quoziente Parma non è così bello, perché, e qua torniamo al tema del marketing, diciamo marketing, che è stato fatto per quanto riguarda il quoziente Parma, tutto quello che è stato speso, senza voler guardare nello specchietto l'etrovisore, ma quello lì fa parte dello zaino che noi ci portiamo tutti i giorni, cosa è stato speso e forse se ci fosse rimasto qualcosa non avremmo queste difficoltà, di fatto non faceva capire, io non l'avevo capito, 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 io non l'avevo capito. Per valutare, e penso tanti altri candidati, cosa il quoziente Parma fosse, perché per come era stato venduto, del non pesa sulle casse del comune, è bellissimo, rende tutto più equo, uno non può solo, potete scegliere se ascoltare.